Quando si parla di femminicidio spesso si dimenticano i figli delle donne uccise che non devono solo affrontare il dramma ma continuare a vivere. Bene, grazie a Codice Rosso, la nuova legge appena approvata in Senato e i precedenti provvedimenti, questo governo ha pensato proprio a questi orfani. Non sono solo stati aumentati gli indennizi destinati a familiari delle vittime ma presto, grazie a un lavoro congiunto tra ministeri, verrà approvata anche un piano di sostegno per gli orfani su studio, occupazione e aiuti alle famiglie affidatarie. Ne parliamo con il prefetto Raffaele Canizzaro, commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e intenzionali violenti. Buongiorno, grazie per averci raggiunti. Con l'avvocato Patrizia Schiarizza, presidente dell'associazione Il Giardino Segreto. Buongiorno, con Vera, squattrito, mamma di una vittima di femminicidio. Allora, prefetto, partiamo da lei. Lei si è insediato nel 2018, quindi è passato un anno, ma in un anno molto è stato fatto. Ovviamente parlo delle leggi che riguardano i figli di femminicidio. Che cosa è stato fatto? Noi abbiamo puntato la nostra attenzione sull'adozione degli strumenti regolamentari. C'erano recenti leggi che hanno state varate dal Parlamento, anche quella che precede, quella del Codice Rosso, e abbiamo lavorato molto, e stiamo lavorando ancora molto perché il processo non si è ancora concluso, sugli atti regolamentari per rendere effettive le previsioni che il legislatore ha voluto. Avvocato Schiarizza, lei ha fondato l'associazione Il Giardino Segreto. Ci vuol dire di che cosa si tratta e di che cosa si occupa? La nostra associazione è nata proprio con lo scopo di fornire supporto agli orfani di femminicidio e alle loro famiglie, ed è un supporto sicuramente di carattere legale e psicologico, ma devo dire che poi l'esperienza di questi anni ci ha insegnato che le necessità sono talmente tante che bisogna intervenire sotto più profili. Quindi, come dire, non c'è soltanto la parte medico-psicologica per la quale diamo indicazioni di personale, di persone professioniste, una rete di professionisti di grande competenza che cerca quindi le famiglie a superare il trauma del luto e a fare fronte a queste situazioni di emergenza nelle quali si trovano, ma cerchiamo di dare anche supporto legale perché ovviamente non c'è soltanto il processo penale legato appunto al femminicidio, alle eventuali violenze nei confronti dei bambini, ma c'è poi tutta una parte di natura civilistica legata alle questioni successorie e quant'altro. Adesso vi faccio vedere una tabella, prego la regia di mandarla in onda, riguarda gli indennizi alle vittime, agli orfani dei femminicidi e di altri reati violenti. Come vedete chiaramente, fino ad ora la legge prevedeva 8.200 euro in caso di femminicidio, 4.800 euro in caso di stupro e sono crimini orrendi, non servono i soldi ma servono i segnali e questo è un segnale importante. Con il nuovo provvedimento in rapida approvazione, trattasi di emergenza nazionale, siamo a 60.000 euro in caso di femminicidio, 25.000 euro in caso di stupro. Allora, Perfetto Canizzaro, ho detto i soldi, però il segnale c'è. C'è, a giorni vedrà la luce questo provvedimento che è di raccordo tra ministeri, che è stato possibile adottare anche grazie alla preziosissima collaborazione del Ministero della Giustizia e devo precisare, se me lo consentite, che ai 60.000 euro previsti in caso di femminicidio e ai 25.000 in caso di stupro si aggiungeranno, se dimostrati, altri 10.000 euro per sostenere e rimborsare le spese di assistenza medica e psicologica ed assistenziale. Gli indennizi, lo Stato farà qualcosa di più perché questi orfani hanno bisogno di soldi per continuare ad esempio gli studi, per iniziare una vita professionale. Di che cifre si tratta e quando partiranno? Sulle cifre non possiamo ancora essere precisi. Noi stiamo attuando le norme della legge 4 dell'anno passato che poi viene trasfusa adesso nel Codice Rosso e anzi che il Codice Rosso apposta ulteriori risorse da destinare a queste finalità. Noi stiamo lavorando, e questo è il nostro obiettivo, di consentire alle famiglie affidatari, ai superstiti, agli orfani del femminicidio di proseguire nel loro desiderio di vita. Un progetto di vita viene interrotto da un evento drammatico come quello che stiamo trattando, bisogna che questo progetto continui. Lo Stato si farà carico con questi provvedimenti di sostenere gli orfani nello studio, dalle scuole elementari fino agli alti studi compresi. Addirittura noi possiamo ipotizzare le forme convittuali. li sosterrà con l'aiuto delle regioni nel percorso di formazione professionale e anche di ingresso nel mondo produttivo e quindi anche nella ricerca del posto di lavoro, ma sosterrà anzitutto le famiglie affidatarie dei minori che oggi non si vedono corrispondere nulla a fronte di un impegno gravosissimo. Esatto. Allora, Avvocato, lei che conosce molto bene queste problematiche, queste dinamiche, ha iniziato un colloquio con lo Stato, è stata ricevuta dal Ministro Bonafede, dal Commissario, e per dei suggerimenti che sono stati accolti? Ma guardi, devo dire che, di questo devo dare assolutamente atto, che c'è un grande desiderio di ascolto da parte dello Stato. Con la nostra associazione l'attività che cerchiamo di fare è non soltanto quella di supportare le famiglie e gli orfani, ma è anche di sensibilizzare le istituzioni. E devo dire che c'è un grande desiderio di voler ascoltare e di conoscere le storie, perché chiaramente nel momento in cui si sa quali sono i bisogni, quali sono le esigenze della quotidianità, non soltanto di questi bambini, dei figli che sono diventati orfani, che fanno i conti con tutta una serie di difficoltà, legate per esempio all'introduzione nel mondo del lavoro, perché ci sono delle difficoltà, c'è un mondo di cui nessuno sa. E allora raccontare alle istituzioni, allo Stato, che cosa c'è, quali sono le loro necessità, permette anche alle istituzioni di intervenire. Io devo dire che, lo dico con grande soddisfazione, sono stata ricevuta dal prefetto Cannizzaro, con il quale abbiamo un dialogo costante, nel senso che c'è proprio un interesse a voler conoscere le storie e le esigenze. Però c'è una sensibilità anche da parte della Commissione del Femminicidio, siamo stati anche ascoltati dall'autorità garante nazionale per l'infanzia. Senti, in mezzo a tutte queste storie che le è capitato di sentire e anche di raccontare in questo percorso, ce n'è una che l'ha colpita particolarmente? Ma guardi, devo dire, ce ne sono tantissime. Quelle che mi colpiscono sempre di più sono quelle che parlano del dolore dei bambini, perché vede, il femminicidio, come dire, è l'epilogo più drammatico, ma molti di questi bambini, molti di questi orfani, vivono anni di violenza, di violenza assistita e quindi, come dire, la loro vita è spezzata, è cambiata per sempre, non soltanto dalla perdita della mamma e del padre allo stesso tempo, ma anche da quello che hanno vissuto nel corso della loro vita. Per questo è fondamentale l'intervento dello Stato e l'aiuto psicologico, che talvolta, mi spiace dirlo, è anche psichiatrico. Vera, la sua vita è cambiata, è cambiata radicalmente. Lei aveva una figlia giovane, bella, di tante speranze, si chiamava Giordana. Lei ha fondato un'associazione che porta il nome di sua figlia, che a vent'anni è stata uccisa dal suo fidanzato. Lei ha la forza oggi di essere qui, raccontarci la sua storia e la forza che ci racconterà, perché lei è andata avanti, anche grazie a questa associazione. Ma diciamo che dopo la morte di una figlia tutta la vita cambia, ma soprattutto cambia a questi bambini, proprio gli orfani di femminicidio, che io le definisco trasparenti al mondo intero, ma soprattutto allo Stato, perché vengono dimenticati assolutamente. Perché ricordiamo che sua figlia... Ha lasciato una bimba che oggi ha otto anni, sono quasi quattro anni che mia figlia è stata brutalmente uccisa, e da quel momento non abbiamo mai avuto un sostegno concreto da parte delle istituzioni. Cioè lo Stato non ne ha mai... No, assolutamente. Prima parlavamo di soldi, neanche questo. No, no, assolutamente no. Ma guardi, ma non è tanto il problema denaro, perché a volte basta il sostegno psicologico, che è molto poco. Io quando mia figlia chiaramente mi è stato comunicato che non c'era più, era stata uccisa, la prima cosa che trovi sono gli assistenti sociali, tutta una serie di persone che cercano in qualche modo di capire e di vedere come muoversi, ma dopo il primo affidamento tutto finisce, perché chiaramente fai un percorso dato dalla magistratura, del Tribunale dei minori, che deve decidere a chi dare questi figli. Giustamente, anche perché io sono una nonna, grazie al cielo, giovane, ma ci sono nonne molto più grandi, ci sono bambini che vanno a finire le case famiglie, proprio perché non si ha il sostegno economico, no? Quando una nonna ha i suoi 70 anni, chiaramente non avranno chissà quale denaro. È difficile mantenere due, tre, quattro bambini. Sappiate che i costi per questi bambini sono altissimi, perché non basta solo la parte medica, cioè andare dal psicologo, ma è necessario associare a questo anche dello sport particolare, come l'ippoterapia. Sua nipote fa l'ippoterapia, no? Fa l'ippoterapia perché l'ho ritenuta una delle migliori soluzioni per dargli la libertà, per dargli l'amore della condivisione. Se non sbaglio fa anche danza come la mamma, no? Ha scelto lei di farlo, perché voleva stare vicino alla sua mamma in qualche modo, perché questi bambini hanno un'elaborazione assolutamente distruttiva, perché è un trauma che davvero ha delle grosse difficoltà nella crescita e da donne o da uomini potranno riperpetuare la violenza che hanno assistito e hanno subito. Quindi noi abbiamo necessità di avere il sostegno da parte dello Stato. Quindi faccio una richiesta ben precisa a chi ci sta ascoltando in questo momento, perché qui abbiamo una mamma che ha perso una figlia ed una nonna che deve tirare su una bambina di otto anni che ha ovviamente tanti problemi da superare. Ma guardi, io chiaramente non ho le competenze per dire tecnicamente cosa è necessario per le famiglie e per questi bambini, ma ho la competenza del dolore che è quella che mi ha donato la vita e la vivo quotidianamente dove difficilmente mi ascoltano le vittime. Sicuramente noi abbiamo bisogno del sostegno psicologico e economico perché chiaramente ci sono famiglie molto disagiate e hanno la necessità e poi cercare di dare questi bambini alla famiglia e non darle alle case famiglie. Quindi cercare di anche rieducare una magistratura nel rispetto del valore della vita, ma soprattutto nei sentimenti di questi bambini che se lo Stato dà alle case famiglie soldi, che li diono ai familiari. Perché è importante che i bambini restano in quel contesto familiare perché già hanno subito un trauma davvero terribile e lo vivo sulla mia pelle tutti i giorni. Grazie, grazie per averci raccontato la sua storia, grazie al prefetto Canizzaro, all'avvocato Schiarizza.